Tra l'altro è un tema molto interessante, ha delle ricorrenze delle frasi, un papapaparatatà, un papapapà, un papapapà, ha questo intipo che non ha la testa del tempo, il primo tempo è una pausa, un velho caosangibà, un guarararararirà, mi spiace farvi sentirmi cantare, e anche questa idea del tema viene sfruttata per l'introduzione di cui non ho parlato, che fa un cresce armonico, che funge da introduzione ma anche da interludio, cioè separa le strutture a ABA da un altro corus a ABA. La melodia è questa, e questo movimento qua è un cliché armonico, sol minore, sol minore con la sesta minore sesta maggiore sto camminando con la quinta salvo, si può fare anche qua questo è James Bond no paracuto ok?